Io sono Basilio, cameriere e facchino, filosofo e poeta naturalmente, praticamente qui a questa pensione faccio tutto io. Per una serata il palco del Teatro Petrarca si trasformerà in una piccola pensione dell'Alto Casentino per la messa in scena della commedia Pensione Adelina della Compagnia del Polvarone, due atti in vernacolo scritte e diretti da Roberta Sodi. L'appuntamento con la Compagnia Aretina è per sabato 14 maggio. Tutta la commedia è basata un po' sugli equivoci, per cui le lascio immaginare, questo è fonte anche di larità, perché uno parla di una cosa, quello ne intende un'altra, è abbastanza divertente. Io mi sono divertita a scriverla e vedo che la gente si diverte a vederla. Per noi chiaramente questo è un motivo di grandissima soddisfazione, perché questo percorso che abbiamo iniziato sei anni fa, attraverso i primi spettacoli, prima nei posti di provincia, poi in città, in varie locazioni, essere arrivati chiaramente al Petrarca per noi è il massimo traguardo. Abbiamo fatto, tra l'altro, un clavo rosso tutto esaurito. I protagonisti siamo... è un elenco molto lungo, perché siamo 19 persone sul palco. Perché ti spiego, la commedia si svolge in un paesino, in una pensione del Casentino, dove siamo nel finire degli anni Sessanta, si alternano i vari personaggi, famiglie, in questa pensione, con gente che va, gente che viene, e c'è un intreccio di storie basato sull'equivoco, sui malintesi, e si è messo insieme un gruppo molto variegato, con personaggi molto caratteristici, e soprattutto con il calore del nostro vernacolo. Osvaldino, sposo novello della signora Laurina, ti leggo sempre tutta la gazzetta dello sport, e per questo sono un uomo di cultura profonda, anzi no, di cultura profonda. Io sono il garzone innamorato, di nascosto chiaramente dalla Zelmira, e la mia carissima esterina, appena possiamo, come si dice, ci infraschiamo, ci allontaniamo, sempre stando attenti di non farci vedere.